Dopo aver destinato lo storico palazzo Spadafora nel centro storico di Cosenza alla progetto Cosenza Open Incubator, uno degli interventi previsti nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per la riqualificazione della parte storica della città che coinvolge l'Università della Calabria, grazie ad un ulteriore accordo tra l'amministrazione comunale e l'Ateneo Cosentino, si concretizzerà un altro progetto che prenderà il via martedì prossimo l'apertura di un corso di laurea di infermeristica che porterà nella parte antica della città oltre 500 studenti che seguiranno le lezioni nel suggestivo complesso di San Domenico a pochi passi dall'ospedale dell'Annunziata dove si svolgeranno i tirocini. Finalmente si corona un sogno di avere anche qui nel centro storico di Cosenza una facoltà importante che popolerà, non solo contribuerà ad accrescere quell'offerta culturale che stiamo mettendo in campo ma servirà anche per ripopolare il centro storico, per ringiovanire il centro storico perché il primo anno arriveranno 119 studenti, con il corso completo si arriverà circa 600 studenti. L'amministrazione comunale di Cosenza ha già destinato 25 alloggi sempre nella parte storica della città all'Università della Calabria, altri saranno reperiti come ha spiegato il sindaco Franz Caruso cercando di coinvolgere anche i cittadini del centro storico che dovranno fare la loro parte mettendo a disposizione i propri immobili. Io credo che è un movimento che muove esclusivamente, non esclusivamente l'economia ma muove un mondo che porterà secondo me a rivitalizzare, a ricreare le condizioni perché il centro storico diventi veramente centro di una nuova vita per la città e per tutta l'area urbana. L'obiettivo che si erano posti il sindaco e il rettore è stato possibile raggiungerlo grazie al fatto che San Domenico era beneficiario come struttura di un intervento CIS che prevedeva appunto la realizzazione al suo interno di un centro di arte e cultura e di alta formazione di istruzione. Questo si è coniugato benissimo con l'arrivo dell'Università e noi abbiamo anticipato i lavori che avevamo previsto far partire a gennaio proprio per consentire all'Università di di poter trovare collocazione all'interno di questi spazi.